Le regioni ancora le prese per trovare un accordo sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2011 che ammonta ad oltre 106 miliardi di euro. La Basilicata sta difendendo le sue posizioni, far prevalere i criteri che tengano conto delle sue specificità. Se passasse infatti la proposta del governo, alla Basilicata sarebbero decurtati ben 13 milioni di euro dal bilancio per la sanità. Nelle riunioni tecniche e politiche che si stanno susseguendo, la posizione della regione è netta, occorre equità nella distribuzione delle risorse del Fondo Sanitario facendo prevalere le specificità geografiche e demografiche anziché il precedente criterio della suddivisione che aveva quale parametro, la sola quota pro capite. Pecularità che però non hanno impedito finora la Basilicata di utilizzare al meglio le poche risorse finanziarie disponibili, unica regione del sud infatti a non essere né commissariata né costretta a dover formulare piani di rientro.